Prosegue l'attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli che nel quadro del costante monitoraggio dello stato della sicurezza nell'area urbana e metropolitana ha pianificato nell'ultimo mese su disposizione del prefetto di Napoli Claudio Palomba sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica una serie di operazioni ad alto impatto intensificando i controlli sia nei quartieri Ponticelli e Traiano del capoluogo che nei rioni a maggiore densità criminale della città di Torre annunziata. 940 controlli eseguiti, 55 le sanzioni per droga, contrabbando di sigarette e violazione al codice della strada. In particolare i baschi verdi del gruppo pronto impiego di Napoli e del gruppo di Giuliano in Campania unitamente ai finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli e all'unità cinofile antidroga della compagnia di Capodichino hanno eseguito nel quartiere Ponticelli 311 controlli a persone e veicoli. Segnalate alla prefettura quattro soggetti trovati in possesso di hashish e marijuana, denunciati quattro responsabili trovati in possesso di centinaia di grammi di sigarette di contrabbando, sanzionati tre per violazioni a codice della strada. Nel rione Traiano, nella nota piazza di spaccio denominata la 99, gli stessi baschi verdi di Napoli hanno fermato un'autovettura il cui passeggero all'atto del controllo si è dato alla fuga impugnando un'arma, fermato ed è denunciato il conducente per favoreggiamento, sequestrato una pistola Beretta modello 98FS calibro 9x21 con matricola a brasa e con 15 cartucce ritrovata poco lontano in una cassetta di legno. I baschi verdi del gruppo di Torre Annunziata hanno inoltre eseguito nei rioni Penniniello e Polvolera 629 controlli a mezzi e persone. Scoperto in particolare un soggetto alla guida con patente revocata, pertanto il motoveicolo è stato posto sotto sequestro, denunciato un secondo responsabile trovato in possesso a bordo di uno scooter con 1,4 kg di sigarette di contrabbando, segnalati al prefetto 8 soggetti per uso personale di marijuana e hashish. Nello stesso rione Polvolera è stato sequestrato anche un sistema di videosorveglianza occultato nella grondaglia di una palazzina, composto da due microcamere collegate con circa 50 metri di cavo ad un'antenna, nascosto su un filo di un'illuminazione pubblica. Lo stesso è stato immediatamente rimosso con l'ausilio dei vigili del fuoco. Infine nella periferia di Caimano, nei pressi del Parco Verde, il gruppo di fratta maggiore ha sequestrato un veicolo ad un fuggitivo che ha eluso un posto di blocco non fermandosi all'alto e intimato dai finanzieri. All'interno dell'auto è stato ritrovato anche un coltello al serramanico. Gli interventi rientrano nel quadro della costante attività di prevenzione generale di controllo economico del territorio, svolta dalle fiamme gialle partenopee, anche in sinergia con le altre forze di polizia, al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusi soprattutto in alcune aree del capoluogo, che restano oggetto di massima attenzione da parte dell'autorità di governo e delle forze dell'ordine.